Hey, mo ciao Youtubini! Benvenuti ad un nuovissimo video di... Hashtag i new food di Gaetano Donati! Allora, Youtubini, dopo il... dopo lo zucchero filato al bacon arriva un nuovissimo zucchero filato golosissimo ovvero il nuovissimo zucchero filato a coda di unicorno Allora, come potete vedere i Youtubini lo zucchero filato a gusto coda di unicorno fa parte sempre dello stesso marchio Chocolate Storybook ovvero lo stesso marchio che produce lo zucchero filato al bacon e... e nulla questo zucchero filato a coda di unicorno comprende ben quattro gusti ovvero l'uva, la mila, la ciliegia e il frutti blu eccolo qua Allora, la confezione è di 100... no... la confezione è di 50 grammi, scusate Allora, il colore è bellissimo, è davvero molto colorato e secondo me è davvero molto ma molto buono quindi io direi di aprirlo e gustarlo insieme a voi Allora... questo qua, ecco qui Allora, eccolo qua questo è lo zucchero filato coda di unicorno Allora, quindi... assaggiamo i vari colori questo blu abbiamo detto che è lampone Buonissimo il lampone Poi il viola Il viola sarà uva Il verde dovrebbe essere mela Mmm... molto buono E poi c'è il rosa che dovrebbe essere ciliegia Mmm... mi piace davvero tanto Devo dire che sono veramente soddisfatto Vi ricordo che lo zucchero filato coda di unicorno l'ho acquistato su un sito italiano che vende prodotti americani, ovvero cibousa.com E l'ho pagato 6,90€ Mi sa che ho fatto la lingua del blu Allora, Youtubini Per oggi è tutto Grazie per avermi seguito Se non lo fate ancora seguitemi anche su Instagram al mio profilo gaetano.donati Un bacio Ciao 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 Grazie.